Silvi ha salutato per l'ultima volta Giulio Alberto Pacchione, il finanziere che ha perso la vita insieme al collega Lorenzo Paroni durante una scalata di addestramento sulle Alpi Giulie. Autorità civili e militari, amici e tanti cittadini della sua Silvi dove il primo cittadino Andrea Scordella ha proclamato il lutto cittadino. La chiesa di Santa Maria Assunta era stracolma e anche all'esterno si faceva fatica a trovare posto per rendere onore a un ragazzo che aveva nel suo DNA la parola soccorso, come ricordato dal generale della Guardia di Finanza De Gennaro durante i funerali di Stato a Tarvisio. Sì, lui era un militare, è una persona molto conosciuta, molto stimata così come lo è la sua famiglia qui a Silvi, quindi tutta la comunità oggi numerosissima si è stretta intorno a questa famiglia per far sentire il proprio effetto, la propria vicinanza anche in un momento così tragico. Sì, ormai è come se fosse il fratello d'Italia, in questo momento tutti ne parlano, tutti sanno, conoscono quelle che sono state le sue qualità, i suoi pregi, il suo apporto che ha dato nella comunità di Tarvisio e nella nostra comunità delle fiamme gialle. Tanta commozione all'uscita del feretro, col picchetto d'onore dei suoi colleghi che a stento hanno trattenuto le lacrime per l'enorme dolore a seguito della tragedia. Sindaco Scordella, un dolore immenso per tutta Silvi, ma devo dire che anche i comuni limitrofi hanno partecipato a questo profondo dolore. Indubbiamente tutta la città di Silvi, anche il territorio si è unita a questo dolore, alla famiglia, dunque siamo veramente commossi per l'affluenza e soprattutto la partecipazione. Non potevamo che ricordare questi due ragazzi in un modo splendido, oggi l'abbiamo fatto. Indubbiamente è un uomo, un servitore dello Stato, dunque lo ricordiamo perché è al servizio di noi tutti, dei cittadini. Quando succedono queste tragedie che non dovrebbero accadere, lo dobbiamo prendere come esempio per le nuove generazioni perché al servizio dello Stato e al servizio della comunità questi ragazzi hanno dato la vita. Poi Giulio Alberto ha intrapreso davvero il suo ultimo viaggio su questa terra, sperando riesca a scoprire nuovi sentieri e a scalare migliori vette, facendo d'altronde quello che più amava fare in vita.